Nel 2023 grazie a questa associazione sono entrati nel mondo dello sport 40 ragazzi per un contributo da parte dell'associazione pari a 15.000 euro e con il supporto di ben 21 associazioni sportive. E' giunto alla terza stagione il progetto di sostegno ai giovani per lo sport promosso dall'associazione Trieste Entra in Gioco in collaborazione con il Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune presentato oggi il cui obiettivo è favorire l'accesso all'attività sportiva per giovani in situazioni di vulnerabilità economica e sociale per fornire loro stimoli positivi per una crescita equilibrata e serena contribuendo alla costruzione di un futuro più inclusivo e promettente. Grazie anche al contributo della Fondazione Pittini 40 giovani hanno potuto praticare una delle 12 discipline proposte. Molte associazioni aderenti all'iniziativa hanno rinunciato in tutto e in parte al contributo loro spettante per destinarlo ad attività simili per altri giovani. Il Comune supporta questa attività dando supporto dal punto di vista diciamo così tecnico perché è a fianco di qualsiasi attività che possa vedere un connubio, un felice connubio tra pubblico e privato. Questa è la strada che noi dobbiamo percorrere anche per il futuro. Il Comune oltre a fornire i nominativi dei ragazzi che potrebbero essere inseriti nel progetto attraverso il gruppo Tutela Minori contestualmente al progetto stesso mette in atto anche un approfondimento per sensibilizzare contro bullismo e cyberbullismo secondo un protocollo nazionale adattato al nostro territorio volto a costituire una rete che riguarda anche il mondo dello sport.